Ciao, sono Luca Zilovic, sono autore e regista delle officine Gorilla. Stiamo per entrare per lo spettacolo Riportami là, dove mi sono perso. In scena ci sono Maria Rita Lodestro e Michele Puleio. Noi veniamo da Alessandra, dal Piemonte, e lo spettacolo è coprodotto insieme al Teatro dell'Aiuta di Arquata Scrivia. Riportami là parla di dinamiche di coppia, di tutto quello che una coppia deve affrontare oggi per stare insieme, cioè il lavoro, avere dei figli e appunto l'amarsi. Si parla d'amore, perché non facciamo altro che parlare d'amore. Il nostro obiettivo come compagnia è quello di raccontare la contemporaneità, cioè il mondo che ci circonda, che abbiamo attorno. Ed è questo quello che facciamo con tutti i nostri spettacoli, almeno che cerchiamo di fare.